Hola a tutti ragazzi, nel vostro le occhie oggi come vedete qui davanti a voi sono a proporvi una nuova serie il gioco ragazzi l'avete ben capito è MotoGP 2018 e fatemi sapere ragazzi con tanti pollicioni in su e con qualche commento cosa ne pensate di questa possibile serie ovviamente questo è il primo episodio quindi andiamo a creare il personaggio, andiamo a fare le cose basi però voglio da voi un bel feedback, ossia un bel like e soprattutto un commento di cosa ne pensate sto pronto a portare in vita il nuovo canale quindi ragazzi, voglio tanto supporto quello che andremo a fare oggi ragazzi più che altro è la creazione del personaggio e le situazioni base giusto per vedere un po' come si struttura allora ragazzi, come voi ben sapete mi chiamo Luca, quindi mettiamo nome Luca però cognome non metto il mio anche se qualcuno di voi lo conosce io preferisco non mettere il mio cognome soprattutto perché non mi piace dirlo in giro così quindi metteremo un cognome un po' strano allora ragazzi, avevo pensato questa cosa qui tipo Jesus perché Jesus? poi vi faccio vedere tra i volti eccolo qua c'è la versione di Gesù ok, praticamente il Jesus della MotoGP quindi lo mettiamo qui l'età vabbè 17 anni tutte le robe mie italiano numero di carri ragazzi per forza 71 perché il 17 non c'è font numero questo qui colorato di soprannome però mettiamo sempre Jesus ok, lo mettiamo in inglese ragazzi perché non mi pare bello scrivere Gesù invece Jesus è diverso ok? come Juan Jesus giocatori della Roma ma lasciamo stare tralasciando il calcio andiamo subito con la conferma della configurazione quindi abbiamo creato il nostro Jesus andiamo a vedere la lunghezza di gara ok? 100% no ragazzi so che ho provato già a creare una carriera è fin troppo quindi mettiamoci 15% che saranno se non sbaglio tre giri poi il weekend completo sì perché i giri di prova le qualifiche e la gara la difficoltà non messa media i danni alla moto realistici perché mi sembra ovvio il consumo gomme attivo la gestione partenza manuale attiva e ovviamente ragazzi il regolamento ufficiale detto questo possiamo andare avanti livello simulazione fisica normale poi che cosa c'era? no vabbè ragazzi lasciamo normale perché il freno deve essere almeno un po' automatico perché sennò io non la so proprio portare la moto rewind sì ok tutto il resto è a posto andiamo avanti la reputazione rappresenta grandi linee quanto popolare il tuo piloto tra i tifosi guadagna reputazione per ottenere offerte dei rimi più prestigiosi ah vabbè raga ci spiegano un po' come è formata e progettato il gioco quindi se siete interessati ragazzi vi invito appunto a voi di stoppare il video ok dovrebbe essere tutto pronta eccolo qui jesus e andiamo ah c'è una mail già anche mail l'abbiamo ricevuto signorino il manager personale vabbè ragazzi alla fine ci spiegano un po' come sono i punti del campionato e questa roba qui è noi poco ci interessa perché tanto non faremo manco un punto direi di andare a fare un po' di prova su pista ragazzi e vediamo un po' come siamo messi attenzione grand prime red bull di spagna ah quindi ragazzi sono proprio i filmati delle varie località è una cosa fighissima credo però non so se c'è copyright sapete noi ne guardiamo un attimino per renderci conto dove andiamo però secondo me ci danno pure il copyright vabbè alla fine ragazzi è un'introduzione al paese dove andiamo però diciamo che noi conosciamo bene la spagna e quindi andiamo avanti non è vero mai però shh non lo dite a nessuno l'approccio è baserato in una curva e la linea geometrica sì vabbè ragazzi il problema più grande per me è prendere le curve perché ho fatto come ho detto prima qualche giro libero non in carriera ma in modalità singolo single player e poi vedo che c'è proprio pietà a portarla a moto buongiorno a lei signore ok ragazzi parte tutto vediamo un po' però ragazzi dobbiamo dire che è abbastanza bella la grafica anche se molto simile al gioco precedente ok a MotoGP 2017 vediamo un po' noi scendiamo subito in pista perché di assetto moto non capisco un chiezzo e andiamo in pista ragazzi così vediamo un po' come è portare la moto qui no? lo vediamo insieme a parte il rumore ragazzi che sembro più un moto sega acceso però tranquilli magari migliora e allora ragazzi adesso facciamo qualche giro di prova proprio per farvi vedere che il mio problema ecco vedete già qui è prendere le curve quindi rendetevi conto che ci vorrà tanto di quell'allenamento che manca immaginate poi ragazzi guardate quanto è bella la grafica devo dire la verità la grafica in gioco ecco parte questa curva bellissima che fa paura però la grafica in pista non in gioco perdonatemi è davvero molto molto carina non l'ambiente però il player si ok il pilota è molto bello invece intorno fa abbastanza schifo però non giudichiamo dai cioè mi sarei aspettato dopo il capitolo precedente ragazzi più attenzione a livello grafico anche per l'ambiente cosa che non vedo si vedo lo sventolamento delle bandierine ma niente di che vedo le curve che non so prendere ma niente di che cioè guardate raga non ne prendo una bene una bene poi magari ci sono gli appassionati di MotoGP oppure che giocano e dicono ma quanto sei nabbo a portare la moto e raga ma che tempo fa io non sono un motociclista allora vediamo un po' facciamo giusto questa prova questo qualche giro a tempo così vediamo quanto ci mettiamo mentre le qualifiche ragazzi le farò offline cioè senza registrare in modo che se volete ancora altri video di MotoGP vi carico direttamente alla gara ovviamente ragazzi è una moto slitta che va proprio una bellezza il problema ragazzi sapete qual è in questi giochini è difficile commentare ma per un motivo io non porto il MotoGP oh mio dio ragazzi in queste curve sono proprio bene ma chi ecco incidente morto per strada è morto già Luca Jesus comunque a parte queste cavolate raga non porto MotoGP per i più seguaci del canale più veterani sanno benissimo che io nel mio primo canale di 4-5 anni fa no 5 anni fa portai MotoGP MotoGP 2013 si quindi era sicuramente all'incirca 5 anni fa e da quel momento non fece più video su MotoGP voglio riprovarci con voi con il mio nuovo pubblico con la nostra nuova famiglia e quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa idea mi raccomando ragazzi voglio vedere tanti like perché ho bisogno di stimoli per portare la serie perché ovviamente se non vi piace che bella porta a fa ed è giusto così allora raga stiamo per arrivare alle ultime curve se non sbaglio e poi chiudiamo il video perché alla fine ragazzi vi ripeto era giusto un video introduttivo alla serie ed eccoci qui dovrebbe essere l'ultima curva questa qui che ragazzi in riscaldamento la sbagliavo sempre attenzione è più o meno però l'ho pesa lentissima infatti c'è Gigino qua che mi vuole superare ok torniamo velocemente dai due minuti ci abbiamo messo mamma mia che pena che faccio torniamo ai box per concludere il video non sono soddisfatto tranquillo comunque a parte gli scherzi ragazzi spero che il video di oggi vi sia piaciuto spero che supportate la serie perché voglio provarla a portare è un gioco uscito da poco quindi novità mi raccomando like commento condividete ma soprattutto iscrivetevi al canale ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti